Quanto ritieni che questo coronavirus, Covid-19, possa in qualche modo fare la fine della Sars con l'estate o meno? Non ti chiedo una percentuale esatta, ma questo è un aspetto che spesso non ho letto. Io ti do una percentuale esatta. Ah, fantastico. Zero. Ah, buonissimo. Quindi c'è chi scriveva se riuscivamo con l'estate a cavarcela, è bene dire le cose subito con molta chiarezza. Se voi create le condizioni affinché i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro fratello diabetico, la vostra fratella si ammali e forse muoia di coronavirus, io vi dico quando uscite che non vi dobbiate pentire, perché poi questo rimorso ve lo portate dietro per sempre. Tutto qua.